I 10 prototipi Toyota Hilux a celle a combustibile costruiti da Toyota Motor Manufacturing UK sono passati all'ultima fase di sviluppo. Lo stadio raggiunto da questo progetto di sviluppo congiunto conferma ulteriormente l'ampia portata della strategia multitecnologica di Toyota verso la neutralità delle emissioni di anidride carbonica che prevede l'applicazione di diverse soluzioni di propulsione ibrida, ibrida plug-in, elettrica, celle a combustibile ed e-fuel per soddisfare le diverse esigenze degli utenti e in relazione alle infrastrutture locali. Nello stabilimento Toyota Motor Manufacturing UK in Derby, in Inghilterra sono stati costruiti 10 prototipi di Hilux a celle a combustibile. 5 veicoli sono in fase di test per valutare la sicurezza, le prestazioni, la funzionalità e la resistenza generando dati sui test drive in situazioni reali. Altre 5 unità saranno impegnate in dimostrazioni per i clienti e i media anche in occasione dei prossimi giochi olimpici e parolimpici di Parigi 2024. Esternamente, l'Hilux a celle a combustibile mantiene le stesse dimensioni e lo stesso aspetto robusto dell'ultimo Hilux. Nel formato extra-cab è lungo 5.325 mm, largo 1.855 mm e alto 1.810 mm, ma sotto la superficie la tecnologia a celle a combustibile di Toyota lo contraddistingue come un pioniere. L'alimentazione viene fornita utilizzando elementi comuni alla Toyota Mirai. L'idrogeno è immagazzinato in tre serbatoi ad alta pressione. Ciascuno contiene 2,6 kg per una capacità totale del sistema di 7,8 kg e un'autonomia prevista di 600 km. L'Hilux a celle a combustibile è a trazione posteriore grazie a un motore elettrico sull'asse posteriore che eroga 134 kW di potenza massima e 300 Nm di coppia massima. Una batteria ibrida agli ioni di litio che immagazzina l'elettricità prodotta a bordo dalla cela a combustibile è posizionata nel piano di carico posteriore, sopra i serbatoi di idrogeno. In questo modo si evita di perdere spazio nell'abitacolo. Partito con uno studio di fattibilità all'inizio del 2022 per dimostrare i vantaggi dell'idrogeno attraverso un primo veicolo rappresentativo, il progetto del prototipo Hilux a celle a combustibile di idrogeno è andato avanti a passo spedito verso la sua fase conclusiva. La costruzione dei prototipi è avvenuta tra giugno e luglio 2023 e il primo veicolo è stato completato in sole tre settimane.